Musica Numeri mai visti prima, così l'assessore dei trasporti, Moro, commenta i dati relativi al traffico, passeggeri e gli arrivi in porti e aeroporti sardi. Alghero, unico scalo però a peggiorare rispetto al 2022. Nei giorni scorsi, sovralluogo del sindaco Conoci dell'assessore Peru, all'ex caserma dei carabinieri di Via Simon, si va verso la riqualificazione grazie ai fondi del PNRR da Forza Italia, l'invito a recuperare il progetto con protagonista Antonio Marras. Granchio blu nella laguna del Calic, il problema esiste, fenomeno globale ma non è allarmante come in altre regioni italiane, così dal parco di Porto Conte va comunque affrontato in tempi brevi con rigore e competenza scientifica, sottolineano da Casa Gioiosa. Un saluto a tutti voi, bentrovati, è una nuova edizione del nostro telegiornale, come avete visto, sentito dalle anticipazioni e dai titoli in apertura in dati relativi agli arrivi, al traffico passeggeri di luglio e agosto in Sardegna, che sono in crescita, 5,4 milioni di passeggeri in porti e aeroporti sardi, questi numeri forniti dalla regione, ci sono presenti le criticità e i disagi di cui abbiamo parlato più volte, a più riprese, arriva comunque il commento dell'assessore ai trasporti volo, dice un risultato mai ottenuto prima, unica nota stonata rispetto al 2022, all'aeroporto di Alghero. Dal 1 luglio al 30 agosto il traffico complessivo, arrivi e partenze nei tre aeroporti e nei quattro porti della Sardegna ha raggiunto la cifra record di 5.401.295 passeggeri. Nello stesso periodo di riferimento, nel 2022, erano 5.337.000, mentre nel 2019 si sono fermati a 5.191.285. Anche gli arrivi non sono mai stati il numero così elevato. Dal 1 luglio al 30 agosto di quest'anno i passeggeri sbarcati negli scali portuali e aeroportuali dell'isola sono stati complessivamente 2.738.835. Nel 2022 erano quasi 2.006.000, nel 2019 2.626.000. Scorrendo i dati forniti dalla regione colpiscono quelli degli aeroporti. A luglio-agosto fare la voce grossa, come sempre, Olbia con 1.390.000 passeggeri, quasi 50.000 in più rispetto al 2022 e 172.000 in più del 2019. Quindi c'è Cagliari, ugualmente in crescita, con 1.189.000 passeggeri, 40.000 in più del 2022 e in crescita di 16.000 sul 2019. Unica nota stonata al Ghero perché con 420.400 passeggeri nei due mesi appena trascorsi è in calo di 21.654 rispetto al 2022 e 4.607 in più del 2019, in calo rispetto allo scorso anno anche gli arrivi, quasi 10.000 in meno. Positivi i numeri dei porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci, sia per quanto riguarda il traffico complessivo, sia per gli sbarchi. Ancora una volta, i dati del traffico passeggeri, i volumi degli arrivi in Sardegna, nei due mesi di punta della stagione turistica, certificano un risultato mai ottenuto prima, dichiarato l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro. Superiore non soltanto allo scorso anno, ma anche a quello della stagione 2019. Non nego criticità e disagio, ha spiegato l'esponente della giunta a Solinas, così come è auspicabile un miglioramento complessivo dei servizi di trasporto, sia aerei che navali. Ma le mistificazioni, le strumentalizzazioni che continuiamo a registrare anche in queste ultime ore, non portano alcun beneficio alla Sardegna e tantomeno migliorano la qualità della vita della nostra isola, così come non fanno crescere le quote di quel diritto alla mobilità e alla continuità territoriale che ha più riprese invocate e della quale c'è ancora estremo bisogno. Alla Sardegna serve infatti più unità di popoli ed intenti, ha concluso Moro, per difendere quelle garanzie, quelle specificità, derogatorie rispetto al libero mercato, che con impegno e fatica da più di vent'anni a questa parte siamo riusciti a ottenere, dallo Stato italiano e dall'Europa, tutele che talvolta percepiamo come non del tutto sufficienti a compensare la nostra condizione insulare e che certamente meritano nuovi strumenti e una rinnovata collaborazione con il Governo e con la Commissione europea per rafforzare e migliorare la rotta intrapresa nel verso dello sviluppo economico e della crescita sociale e culturale che, come noto, per la Sardegna passa per lunghi tratti proprio dall'efficienza dell'intero sistema dei trasporti. Andiamo ora in Consiglio regionale perché nella seduta di ieri sono state approvate diverse norme urbanistiche introdotte nel collegato alla finanziaria Via Libera, intanto i bonus volumetrici per gli hotel, il provvedimento prevede che la capacità massima insediabile nelle zone F può essere incrementata fino al 25% per la realizzazione di nuvi alberghi a 5 stelle o superiori, purché localizzati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea Battigia Marina ridotta a 150 metri per le isole minori. Invece, per tutte le altre strutture, comprese quelle di lusso, nell'ottica del miglioramento e modernamento, si può incrementare sino al massimo del 15% del volume legittimamente realizzato dalla singola struttura anche all'interno della zona protetta dei 300 metri, tutto senza l'aumento di posti letto. Previsto inoltre il riuso a fini abitativi e il recupero di sottotetti, piani pilotis, semi interrati e locali a piano terra, a patto che siano situati in zone non a rischio, il tutto, ha commentato l'assessore all'urbanistica di enti locali Aldo Salaris, permette di limitare il consumo di suolo. È consentita la realizzazione di soppalchi e l'ampliamento volumetrico fino a 120 metri cubi per adeguare gli spazi destinati a persone diversamente abili con gravi patologie, non è previsto il cambio di destinazione ed uso. Per allungare la stagione turistica, inoltre è consentita la chiusura di verande per 240 giorni l'anno per le strutture ricettive. Tutto resta vietato in zone a rischio idrogeologico, dove eventualmente non consentito dal piano paesaggistico regionale. Con l'approvazione da parte del Consiglio del capitolo del collegato alla manovra relativa all'urbanistica, riprende il percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e si dà impulso alla pianificazione delle zone costiere, ha dichiarato l'assessore Salaris. Le norme proposte dalla Giunta si basano su tre direttrici. La limitazione del consumo di suolo, il rispetto dell'ambiente, l'adeguamento dell'offerta turistica e i nuovi standard richiesti. In un far west, dove guardando agli ambienti costieri solo 27 comuni su quasi 110 hanno adeguato il PUC al PPR, ci siamo posti come obiettivo quello di riqualificare e pianificare per indirizzare meglio le volumetrie con un'idea di Sardegna precisa, tarata su uno sviluppo duraturo e sostenibile, ha aggiunto l'assessore degli enti locali e urbanistica. Torniamo, veniamo meglio ora ad Alghero. Dall'amministrazione infatti fanno sapere che si completa la definitiva riqualificazione degli immobili storici della città di Alghero, in particolare si parla dell'ex caserma di via Simon con il progetto definitivo esecutivo e poi l'appalto. Nei giorni scorsi c'è stato un sovraluogo di sindaco assessore, interviene intanto però anche Forza Italia che dice bene, passi avanti per il progetto, ma non limitiamoci alla riqualificazione. Con la riqualificazione dell'ex caserma dei carabinieri di via Simon si completa ciò che era stato avviato con grande lungimiranza dai primi anni del 2000 portando al definitivo recupero di tutti gli storici edifici della città, dal complesso di San Michele al Pouserit fino a Santa Chiara, oggi sede del Dipartimento di Architettura. Un immobile di pregio che continuerà a svolgere un importante ruolo sociale e culturale contribuendo nel contempo a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione al fine di garantire sempre maggiori servizi di prossimità agli algheresi. Parole del sindaco di Alghero Mario Conoci che nei giorni scorsi ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'immobile di via Simon, oggetto di un importante finanziamento di circa 3,2 milioni di euro reperiti dal PNRR grazie all'attenta opera di programmazione portata avanti in questi anni dai competenti uffici dell'amministrazione. Col primo cittadino era presente anche l'assessore alle opere pubblica Antonello Peru e responsabile unico del progettimento, Franco Cherchi. È stata l'occasione per visionare lo stato della struttura, recentemente consegnata all'amministrazione comunale e definire le scelte progettuali. Il primo lotto di interventi riguarderà la completa messa in sicurezza di tutte le coperture, il consolidamento strutturale e l'adeguamento funzionale di tutto il piano terra, adibito a sale espositive e riunioni con funzioni prevalentemente sociali e culturali legate alle attività associative. I piani superiori saranno invece utilizzati ai fini direzionali con uffici periferici della pubblica amministrazione. Prevista nelle prossime settimane l'approvazione del progetto definitivo esecutivo a cui seguirà l'appalto dei lavori. Il direttivo e il gruppo consigliare cittadini di Forza Italia applaudono gli importanti passi avanti per il rilancio dell'ex caserma dei carabinieri di Via Simon, oggetto di un finanziamento di oltre 3 milioni reperiti attraverso il PNRR, grazie all'impegno dell'amministrazione dell'assessore Peru. Il recupero di alcuni spazi storici della città per fini pubblici, sottolineano gli azzurri, è stato uno dei principali obiettivi programmatici realizzati dalle giunte di centrodestra guidate da Forza Italia e Marco Tedde dalle 2002 al 2011. Ricordiamo solo a titolo di esempio il Qualte, Piazza Pinopiras, Piazza Santa Croce, la vecchia Capitaneria di Porto, l'ex Circolo Marinai, l'ex ospedale che ospita attualmente il Dipartimento di Architettura dell'Università di Sassari, il Museo Mano e l'ex Carceretto dove è stato realizzato il Museo della Città. Per quanto riguarda l'ex caserma dei carabinieri, ricordano da Forza Italia, nel 2004 l'amministrazione Tedde ne perfezionò l'acquisto dalla provincia di Sassari e nelle strategie locali doveva essere recuperata strutturalmente e funzionalmente a sostegno di attività culturali, creative, artistiche, tecnologiche, educative, artigianali e a polo formativo per il fashion design, anche approfittando della presenza in città del grande maestro Antonio Marras e di tanti talenti locali che avrebbero potuto contribuire a creare un sistema del fashion design. Ricordiamo che in quegli anni il genio di Marras venne letteralmente brandito per promuovere il territorio attraverso eventi annuali in cui Marras si coniugava artisticamente con grandissimi artisti in spazi comunali, con Maria Lai presso il Cavalmarie, Claudia Losi e Mario Cocco nell'ex caserma, Carol Rama presso il Museo del Corallo o in cui si cimentava in prove d'artista presso il liceo Manno. Eventi coperti mediaticamente dalla grande stampa nazionale e internazionale, ricordano da Forza Italia. Crediamo sia necessario recuperare questo progetto strategico, magari aggiornandolo, per costruire un forte brand dal Ghero, legandolo alla reputazione internazionale di Marras, ulteriormente corroborata dal suo recente connubio artistico e imprenditoriale con Sandro Veronesi, fondatore del gruppo Calzedonia e titolare di prestigiosi marchi nel campo della moda, magari progettando assieme alla regione uno strumento per valorizzare tutta la creatività sarda intesa nell'accezione più generale del termine e dando a Marras un ruolo che ne esalti le sue visioni creative a fini di promozione dell'isola. Ma, concludono da Forza Italia, occorre programmare, scegliere, decidere e perseguire obiettivi strategici che abbiano ricadute benefiche e durature su Alghero. Non limitiamoci alla riqualificazione, rigeneriamo l'urbano con la visione di Alghero. Dei prossimi decenni noi ci siamo. La cronaca ora perché due giovani sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Alghero per alcuni furti avvenuti lo scorso fine settimana. Sabato notte un giovane poco più che ventenne si è prima introdotto in un'agenzia immobiliare portando via un computer, carte di credito, auricolari bluetooth e un assegno bancario da 1000 euro. Poi si è recato a Luna Park Materland e ha portato via un televisore dalla cassa di una delle attrazioni. I militari sono riusciti a identificare in poco tempo il giovane grazie anche alle immagini degli impianti di videosorveglianza. L'intera rifurtiva è stata recuperata dai carabinieri e restituita. Molto più singolare è l'episodio verificatus di venerdì pomeriggio nella chiesa Sacro Cuore di San Marco a Fertilia. Il parroco, dopo essersi accorto che qualcuno, approfittando dell'assenza dei fedeli, aveva asportato alcuni oggetti dal forte significato religioso come il messale, la pisside e la teca eucaristica, oltre ad alcuni oggetti personali prelevati dalla sacrestia, si è rivolto ai carabinieri. Anche in questo caso i militari sono risaliti in poco tempo all'autore del furto grazie soprattutto alla descrizione fornita da alcuni testimoni. L'uomo giovane, una volta raggiunto dai carabinieri, presso la propria abitazione ha messo le proprie responsabilità consegnando la rifurtiva che è stata poi riportata in chiesa dai carabinieri. Il contenimento del granchio blu può diventare una specificazione del contratto di laguna ad attuarsi il prima possibile, a partire da un maggiore sforzo di pesca e conseguente valorizzazione commerciale. Questo è uno dei principali punti dell'intervento in merito alla presenza del granchio blu, appunto nella laguna del Calic, a quale sia la strada da intraprendere in merito. Sul problema è intervenuto il parco di Porto Conte, sentiamo. Granchio blu nella laguna del Calic, il problema esiste, il fenomeno è globale ma non è allarmante come in altre regioni italiane. Va comunque affrontato in tempi brevi, con rigore e competenza scientifica, a partire da una puntuale conoscenza dei dati e con il coinvolgimento delle istituzioni, università, enti di ricerche, operatori economici a diverso titolo coinvolti. Il parco con le sue professionalità non farà certo mancare il proprio supporto. Sterili le polemiche dettate da protagonismo politico locale. Questo quanto viene affermato in una nota dai vertici di Casa Gioiosa, secondo i quali il contratto di laguna è lo strumento adeguato per affrontare correttamente il fenomeno. I tecnici del Parco naturale regionale di Porto Conte hanno preso parte nei giorni scorsi sia alla riunione che al sopraluogo convocato dalla Commissione Comunale Ambiente sulle stesse sponde del Calic per verificare fisicamente la presenza ormai nota del granchio blu, Calinectes sapidus, una specie aliena ormai radicata nel Mediterraneo da quasi mezzo secolo e che però da qualche tempo sta costituendo un serio problema agli allevamenti di miticoltura e in generale ai pescatori delle zone umide dove la specie trova elettivamente spazio. Se da un lato, scrivono dal Parco di Porto Conte, l'aumento della densità di tale specie aliena rappresenta a livello locale fonte di preoccupazione in primis per il comparto produttivo ittico. Il fenomeno è certamente da inquadrarsi su scala globale e nazionale dove in alcune regioni ha superato i livelli di guardia e l'emergenza è tale da diventare difficilmente gestibile. La situazione del nostro contesto lagunare, invece, scrivono ancora, può essere adeguatamente affrontata in tempi brevi. Con rigore e competenza scientifica serve una puntuale conoscenza dei dati sullo stato dell'arte del fenomeno, da attuarsi rapidamente con il coinvolgimento delle istituzioni, quindi università, agenzie regionali di ricerca, agris, operatori economici, e il proleferale di opinioni e sterili polemiche scrivono dal Parco, spesso infondate e dettate da protagonismo politico, non contribuiscono di certo ad una corretta impostazione tecnico-scientifica delle soluzioni. Non compete certo al Parco intervenire su specie ittiche che hanno o possono avere una valorizzazione commerciale. Queste sono azioni che competono ad altri enti. Resta invece l'interesse ambientale del Parco per le implicazioni del fenomeno sulle specie e gli habitat prioritari per la conservazione, come l'attenzione per lo stato eutrofico delle acque da cui a cascata possono derivare molte criticità in ordine alla salvaguardia. Non a caso in stretta sinergia con il Comune di Alghero si sta lavorando per l'aggiornamento e rilancio del contratto di Laguna, unico vero strumento di governance, scrivono da Casa Gioiosa, al cui interno sono chiamati a fare la propria parte tutti i portatori di interesse e gli attori istituzionali del territorio, con l'obiettivo di affrontare la questione della salute, tutela e valorizzazione della laguna in modo veramente integrato ed ecosistemico e non puntiforme. Il contenimento del granchio blu, infine, può diventare una specificazione del contratto di Laguna ad attuarsi il prima possibile a partire da un maggiore sforzo di pesca e conseguente valorizzazione commerciale del granchio stesso e da uno spiccabile alleggerimento del prelievo nei confronti delle specie ittiche commerciali che rappresentano invece potenziali antagonisti nella lotta biologica. Carmelo Scanu, presidente dell'Associazione Cittadini dell'Agro Gherese, a parlare ai nostri microfoni dell'aumento della tariffa, o come lo definisce il contributo del cittadino, al servizio per il trasporto dell'acqua potabile. Il presidente Scanu, con una lettera aperta, si è rivolto direttamente al sindaco, assessori e consiglieri comunali in merito alla questione, ne ha parlato anche ai nostri microfoni. Sentiamo. Con Carmelo Scanu, presidente dell'Associazione Cittadini Agro Gherese, ha chiesto spazio alla nostra emittente per porre all'attenzione una problematica che riguarda le autobotti, anzi la fornitura proprio delle autobotti. Perché? Sì, allora, io ho mandato al sindaco una lettera, una lettera aperta, perché poi doveva essere comunicata, anzi deve essere comunicata anche agli assessori e a tutto il Consiglio Comunale, per rilevare il fatto che ultimamente, con due delibere che sono abbastanza discutibili, l'attuale amministrazione ha portato il costo determinato come tariffa del servizio di fornitura di acqua ai cittadini agro algerese nel giro di un anno, portandolo da 35,20 che era l'importo determinato con le precedenti amministrazioni, a ben 65 euro. Quindi con un incremento che non ha validità, non ha senso, perché non risponde né intanto a una logica contabile, perché la determinazione del prezzo, del servizio, va effettuata in una determinata maniera ed è stato già disciplinato dal Ministero Fin dal 1983, che dice come vanno costruiti il conto economico, quindi il costo del servizio. Sulla base di questo costo così determinato, poi, l'amministrazione deve valutare e deve calcolare una percentuale di contribuzione che il cittadino deve dare all'amministrazione e al comune per coprire, tra virgolette, una parte dei costi, non il 100%, ma loro stessi, nelle delibere fatte, la 101 e la 205, dicono chiaramente che sono servizi a domanda individuale e che non c'è nessuna legge che dice che va coperto il 100% del costo. Quindi, Presidente, che cosa chiedete? Chiediamo che in autotutela il Sindaco annulli, riveda, rivisiti le delibere incriminate, sostanzialmente, e anche come così ho chiesto nella lettera che gli ho mandato, apra un tavolo di confronto per verificare i costi che sono stati determinati indicativamente dalla stessa amministrazione, in via presuntiva, ma non c'è la costruzione, non si dice in queste delibere come questi valori vengono determinati. Si fa riferimento alla delibera numero 110 del 2009 che era sbagliata sotto l'aspetto contabile e che il Sindaco di allora rivisitò, annullò, comunque la ricostruì per certi aspetti passando da 77 euro che avevano determinato a 30 euro. Quindi si era reso conto all'epoca che la delibera era sbagliata. E questo oggi ci porta a doverci confrontare con un'amministrazione, ma noi siamo costretti anche a fare delle cose eclatanti, protestare, scendere in piazza, ma non vogliamo fare questo, noi vogliamo che il Sindaco ci chiami, perché siamo un'associazione, è lo statuto del nostro comune, dice chiaramente che ci deve essere il confronto con le parti sociali, su addempimenti, su atti amministrativi che importano e che comunque comportano a carico dei cittadini un onere che non è dovuto. Io l'ho anche scritto, io non sto pagando la fornitura dell'acqua dell'autobotte al prezzo che hanno deliberato loro, la sto pagando col vecchio prezzo. E fin tanto che queste due delibere non vengono dichiarate legittime, io continuerò così. Poi ognuno farà la parte che deve fare, ma non vogliamo arrivare allo scontro. Nel 2010 l'associazione presentò un piano di fattibilità per la realizzazione delle reti idrico-foniarie nella parte sud-est del comune di Alghero. Ora ci sono la possibilità di circa 1.500 utenze, se non 3.000 utenze, per poter fornire di acqua tutta quella zona. Basta mettersi a lavorare e cercare gli interessati, che può essere il consorzio di bonifiche della NURRA, ABANOA, chiunque. E noi, cosiddetti stakeholder, possiamo intervenire e collaborare con questi enti per la realizzazione di questa infrastruttura. Chiudiamo il TG di oggi con lo sport. Un breve passaggio sul tennis. Intanto sconfitta ieri per Lorenzo Carboni, che si ferma agli ottavi del challenger maschile di Como. Il tennista algherese, lo vedete nelle immagini del sito ATP, ha infatti perso con il punteggio di 5-7, 6-2-3-0. La partita che l'ha opposto al numero 125 dell'ATP, Benoit Perre. Nonostante la sconfitta, una buona prestazione da parte del diciassettenne algherese, numero 807 ATP, che è riuscito a tenere testa a un giocatore di assoluta esperienza, strappandoli anche il primo sette. E ora invece parliamo di judo. Infatti è arrivata la convocazione nazionale per la partecipazione ai prossimi mondiali di kata che si svolgeranno a ottobre ad Abu Dhabi per i fratelli Ilaria e Nicola Placi. I due talentuosi judoca dopo l'ultimo risultato agli europei si preparano dunque per la competizione iridata. Soddisfazione da parte del maestro Gavino Piretta che insieme all'altra insegnante Monica Piretta segue da sempre i due atleti. Li abbiamo intervistati assieme al maestro Piretta. Come si potrebbe intuire, si può intuire, parliamo di judo questa mattina qui a CatalanTV, lo facciamo con Ilaria, con Nicola Placi, lo facciamo col maestro Gavino Piretta. Partiamo dai ragazzi, non per togliere niente al maestro, ma i ragazzi sono stati convocati con la nazionale che ad ottobre poi andrà a disputare il mondiale ad Abu Dhabi. Ilaria, parto da te che sei la signorina del gruppo, quindi per cavalierato, che cosa andrete a disputare e per quale specialità concorrerete? Allora, sì, la nazionale italiana ci ha convocato per questi mondiali ad Abu Dhabi. Noi faremo il Kodokan Koshinjitsu, che è il nostro kata. A maggio abbiamo fatto gli europei e grazie al risultato ottenuto agli europei ci siamo guadagnati questa qualificazione. Adesso inizieremo ad allenarci. Siamo molto contenti e speriamo anche qui di ottenere un buon risultato. Nicola, sicuramente è un percorso che parte da lontano, perché non bisogna mai dimenticare da dove si è partiti. Voi siete stati sempre atleti dello Judo Club Alghero, siete cresciuti lì, come poi la passione è stata coltivata da quando eravate appunto piccolini? Sì, noi abbiamo iniziato entrambi quando eravamo molto piccoli, soprattutto durante tutta la fase della crescita facevamo le gare di combattimento, ma coltivavamo già i kata, in quanto sia il maestro che insieme alla maestra Monica gareggiavano ancora in questa disciplina. La passione ci è venuta, abbiamo iniziato a provare anche noi, piano piano i primi risultati a livello regionale e nazionale sono iniziati ad arrivare e quindi poi abbiamo continuato semplicemente la strada e abbiamo intrapreso questa nazionale e vediamo come andrà. È una grande soddisfazione. Sì, siamo molto contenti anche perché dopo il risultato degli europei siamo anche abbastanza fiduciosi di poter fare bene. Maestro, abbiamo detto quindi che questi ragazzi lei li conosce da bambini perché li ha allevati sportivamente parlando insieme anche alla maestra Monica Piretta. Beh sì, lui aveva quattro anni, lì aveva due anni e mezzo, quindi penso che li conosco abbastanza bene. Per noi e per tutte, credo, le società sportive che operano nello sport è una grande soddisfazione coltivare i propri atleti e portarli ad altissimi livelli. Loro due sono tra le prime cinque copie al mondo e quindi gareggiano fra i migliori del mondo e questa è una cosa veramente eccezionale. Per me anche perché nel cassettino c'è un desiderio che tutti i maestri penso che abbiano nel loro cervellino e cioè portare un'atletta nella loro società, nella loro specialità sportiva alle Olimpiadi. Siccome c'è tutto un disegno anche a livello internazionale, io vado lì ad Abu Dhabi convocato dalla Commissione Mondiale dei Qatar perché faccio parte della Commissione e quindi si discuterà anche di una richiesta ufficiale da parte della nostra federazione, l'IGF, al CIO per introdurre la specialità Qatar di Judo nelle Olimpiadi, nel programma olimpico. Quindi loro sono giovani, hanno le carte in regola e il mio sogno era portare, da quando ho iniziato a Sant'Agostino, 45 anni fa, portare un'atletta alle Olimpiadi. Forse ci riusciamo per il bene dello sport e per la gloria anche della città di Alghero che mi ha dato tanto. Allora continuiamo a coltivare talenti, speriamo, perché anche quest'anno lo Judo Club Alghero si prepara ad aprire le porte per una nuova stagione. Esattamente stasera, da 45 anni noi, il primo settembre io apro la palestra dei corsi di Judo e per tradizioni oggi è venerdì, primo settembre e da stasera iniziamo i corsi di Judo, sempre con lo stesso principio e con lo stesso desiderio, di portare sempre atleti ad altissimo livello per gloria loro e per gloria della società e dello sport. E il Judo chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale, io come sempre vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi e arrivederci.